Morvegno, centro di formazione ENAIP. Nella sede valtellinese di quello che è a livello nazionale il più importante ente di servizi per la formazione professionale e il lavoro, da settembre di quest'anno prenderà il via il nuovo corso nel settore legno bioedilizia, il primo del genere in Lombardia e il secondo in Italia. Carpenteria in legno, serramentistica, ma soprattutto un po' quello che il mondo del lavoro, le novità ci stanno cercando. Quindi aziende che operano nella costruzione di case con un'attenzione alla riduzione dei consumi energetici, all'utilizzo di materiali bio-eco compatibili. Un corso della durata di tre anni con un quarto anno di completamento che mi auguro di poter fare in collaborazione con il centro di formazione professionale, del PFP Valtellina con il quale c'è già un buon rapporto di collaborazione anche in altri ambiti, ma in questo si vorrebbe costruire con loro un quarto e perché no, spero, un quinto anno di specializzazione in questo ambito. Il nuovo corso, che va così ad arricchire l'offerta formativa di ENAIP Morvegno, vuole dare una risposta ai fabbisogni dell'economia locale nell'ottica proprio di creare un sistema territoriale della formazione connesso col mondo dell'impresa. È un corso che è nato un po' anche su richiesta delle associazioni di categoria, Confindustria, Confartigianato, con le aziende del territorio che continuano a chiedere nuova mano d'opera, o perlomeno mano d'opera anche in questo ambito con un livello di specializzazione più alta. Non è più, io dico sempre scherzando, mastrogeppetto, martello e scalpello, ma oggi un buon falegname deve sapere anche usare il CAD, sapere usare l'informatica. La tecnologia la sta facendo da padroni in questo ambito e quindi cercheremo di dare una innovazione anche sotto questo aspetto.